Ciao, sono Luca Riccardi, General Manager di Tecnome d'Italia, e in questo video oggi ti parlerò della linea di mobili Andy Sargeri. Non mi soffermerò sui particolari banali, ma vi spiegherò i particolari interessanti, le soluzioni che abbiamo adottato per questa linea di mobili. Prima di tutto vi spiegherò i mobili che nascondono il carrello Aspiral e il carrello MyCart. Questi mobili sono delle composizioni da un metro e mezzo per una larghezza di 65 centimetri. La particolarità intanto è l'altezza. Normalmente i mobili odontoiatrici sono alti 950-990 mm, i nostri mobili invece sono alti 1020 mm. Perché? Perché in chirurgia si ha la necessità di lavorare in piedi e se il mobile è più alto è molto più comodo per l'operatore. In particolare il mobile Aspiral è dotato di una mobile antina profondo 50 mm con tre ripiani in vetro e due sportelli che nascondono perfettamente il carrello Aspiral. Dal momento che io utilizzo questa struttura non per l'odontoiatria ma eventualmente per un'altra disciplina medica non ho bisogno di questo carrello per cui con il mobile Aspero posso nasconderlo. Devo estrarre i becucci bicchiere bacinella che sono autoclavabili e lo vado ad inserire all'interno del mobile. In questo modo l'ambiente rimarrà pulito, lineare e sterile agli occhi. Andiamo a vedere invece il mobile MyCart. Il mobile MyCart è identico al mobile Aspiral. La differenza qual è? È che invece di un mobile antina ha un elemento con sei cassetti. Dentro questi sei cassetti troviamo ovviamente delle bacinelle a due o quattro scomparti o a scomparto unico dove posizionare tutti i miei strumenti di lavoro. Anche in questo caso ci sono due sportelli che nascondono il carrello MyCart. Ora andiamo a vedere altri due mobili, due composizioni di mobili della nostra linea Kirunox. Sono accostati, il primo è il mobile Matrix e il secondo è il mobile Lavello Sterila perché abbiamo creato questi due tipi di mobile. Oggi come oggi è obbligatorio dentro lo studio avere un monitor PC o un PC dove poter consultare i dati del paziente, quindi le cartelle, le radiografie, le ortopantomografie o anche le TAC. Che cosa succede? Che in questo caso in molti hanno un monitor appeso alla parete e una tastiera ed un mouse. La tastiera ed il mouse sono dei componenti che non sono igienici. Per questo il medico o l'assistente era costretto a incelofanare questi due device. Possiamo capire che l'immagine che si dava al paziente non era il massimo. Oltretutto avere un monitor preso alla parete indica anche che dietro il monitor ci siano dei depositi di polvere o di impurità. Ecco perché abbiamo creato il mobile Matrix. Il mobile Matrix è un mobile di tre elementi lungo un metro e mezzo e largo 65. In basso a destra potete vedere l'icona del configuratore dove vi indicherà come configurare il mobile Matrix. In particolare potrete vedere che il primo elemento che è un mobile Antina è obbligatorio perché è un mobile che ospita tre ripiani in vetro ma il PC. Gli altri due elementi invece possono essere o cassettiere o mobili Antina. Qual è la particolarità di questo mobile? Il mobile Matrix ha una motorizzazione ed un video interno. Con un telecomando dove possiamo sollevare il monitor. In questo caso è un monitor a 43 pollici ed è la massima larghezza che può ospitare questo mobile. Con questo sistema possiamo già capire che se io non utilizzo il monitor PC posso nasconderlo garantendo la stabilità massima. Dal momento che io invece li utilizzo dobbiamo vedere anche come utilizzarlo. Cioè come utilizzarlo cosa significa? Abbiamo parlato prima della tastiera con il cellophane e del mouse. Qui invece il Matrix è dotato di una tastiera high tech videoproiettata. In particolare la videoproiettiamo su questa superficie che è una superficie che si può sterilizzare a 135 gradi. Per cui una volta sterilizzato la inserisco in questo punto e voi potete vedere la tastiera videoproiettata. Questa tastiera con una determinata funzione funge anche da mouse. A cosa serve? Dal momento che io comunque sto operando e ma devo consultare per un qualsiasi motivo un qualcosa al PC normalmente dovrei levare i guanti e agire su una tastiera con il cellophane. in questo caso invece io posso tranquillamente toccare e cercare variare digitare su questa superficie perché è sterile a 135 gradi. Una volta terminato il lavoro la superficie va nel ciclo della sterilizzazione. molti vostri colleghi ne prendono più di una perché sono subito pronti per il secondo intervento garantendo la stabilità ottimale. Nel caso voi scegliate di inserire il PC di TecnoMed Italia nel mobile Matrix potete stare tranquilli perché il PC è un wifi per cui si allaccia tranquillamente e facilmente alla vostra rete dati. Ovviamente per tutta la linea di mobile Kironux l'altezza è 1020 mm. Una cosa importante che non ho detto è che tutti i cassetti hanno le guide con degli ammortizzatori integrati che garantiscono una chiusura automatica lenta e silenziosa. Passiamo all'ultimo elemento che è il mobile sterile. Negli studi odontoliatrici tutti sono abituati ad avere il lavello all'interno della sala. Nelle sale chirurgiche invece tutti sono abituati ad avere la zona lavamani all'esterno della sala operatoria. In questo caso insieme ai tuoi colleghi abbiamo pensato di risolvere questo problema con questo tipo di mobile. Perché? Perché avere all'interno di una sala operatoria un lavello non è igienico però sappiamo anche che la maggior parte degli studi odontoliatrici non ha il posto per creare una zona lavamani all'esterno. Con questo mobile siamo riusciti a risolvere questo problema. Come vedete il mobile è un lavello a scomparsa. Un lavello a scomparsa perché normalmente una volta lavato le mani questa zona sarebbe una zona inutile ma noi sappiamo benissimo che servono delle superfici. Più superfici ci sono in una sala e più è comodo lavorare. Per cui c'è la possibilità una volta lavate le mani di chiudere il mobile e utilizzare il piano di lavoro. Torniamo quindi al lavello. Il lavello è largo 80 perché mi deve dare la possibilità di lavare i gomiti e nello stesso tempo come vedete è rientrato perché queste due pareti fungono da paraschizi. Abbiamo la leva per l'erogazione dell'acqua elettrica ma un'altra particolarità che è la più importante ed è una particolarità che sta brevettando TecnoMed Italia è la sterilizzazione UVC. Che cosa vuol dire? Come vedete qui c'è una griglia dove all'interno troviamo una lampada UVC. Questa lampada UVC si mette in funzione quando? Quando io chiudo il mobile sterile oppure di notte. Quando io chiudo il mobile sterile, una volta quindi che ho lavato le mani, la lampada si aziona per circa 30 minuti e con questa azione riesco a mantenere la carica batterica molto bassa. Abbiamo detto che la lampada UVC si aziona anche di notte. In particolare il mobile sterile è programmato dalle 4 di notte fino alle 7 di mattina. In queste tre ore l'azione della lampada UVC fa sì di mantenere la carica batterica del lavello bassa in modo che alla mattina quando si inizia a operare il lavello risulti perfettamente sterile e pronto per essere usato. Il sottolavello è chiuso da due antine larghe 40 cm. Ricapitolando con il mobile sterile avete un lavello sterilizzato largo 80 cm che quando non si utilizza diventa un piano di lavoro. La soluzione ottimale che ci invidiano in tanti. Prima di lasciarvi una cosa importantissima abbiamo sempre detto che Tecnome d'Italia configura per voi, progetta per voi il vostro studio chirurgico ideale. Sul configuratore non troverete tutto ma non vi dovete preoccupare perché noi possiamo realizzare anche mobili su misura. Faccio un esempio abbiamo parlato di alimenti da un metro e mezzo ma se il vostro studio che è già esistente ha una parete da due metri e venti noi riusciamo tranquillamente con un progetto sviluppare una linea di mobili personalizzata con un top di due metri e venti. Per far questo ovviamente dovete interfacciarvi con i nostri area manager di zona che trovate cliccando qui. Con questo ho concluso e ci vediamo se volete nel prossimo video. Un saluto da Luca Riccardi. Ciao!